L'estate è alle porte, e l'offerta di PlayStation Plus Essential si rinfresca. Sony ha infatti appena annunciato i titoli in arrivo a giugno per tutti gli abbonati al suo servizio esclusivo, scaricabili senza costi aggiuntivi. Scopriamo insieme quali sono. Prima di procedere con le novità, vi ricordiamo però che avete a disposizione ancora qualche giorno per riscattare i giochi di maggio, ovvero Shivalry 2, Descenders e Great Legends. Ultimo capitolo della celebre serie motoristica targata Codemasters. Una selezione che a giugno lascerà spazio a dei sostituti davvero interessanti. Ma prima fateci sapere nei commenti se avete giocato i titoli di questo mese e qual è stato quello che vi è piaciuto di più. E come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Il primo titolo che Sony mette sul piatto è NBA 2K23, simulazione cestistica sviluppata da Visual Concepts, in cui potremo confrontarci con i migliori giocatori del mondo e sfoderare il nostro talento nella modalità My Career. Con questo episodio gli sviluppatori hanno messo in piedi una sorta di open world, un metaverso in cui respirare basket a ogni angolo e interagire con gli altri avatar. Ad arricchire l'offerta è anche la possibilità di emulare quattro diverse epoche dell'NBA, una chicca che senza dubbio farà la felicità dei fan. In Jurassic World Evolution 2 si torna ad affrontare una nuova campagna narrativa dopo quella del prequel datato 2018. Nel gestionale sviluppato da Frontier troverete ad attendervi nuove ed entusiasmanti funzionalità, quattro coinvolgenti modalità di gioco e un numero ancora maggiore di dinosauri. Il tutto arricchito da un ottimo comparto visivo e dal supporto di dialoghi interamente doppiati in italiano. Con Trek to Yomi Flying Wild Hog ci immerge in un Giappone evocativo e affascinante. Seguiremo l'appassionante storia di Hiroki, la sua lotta contro le forze del male e il suo eroico ritorno per mantenere l'antica promessa di salvare i concittadini. Un action che cattura alla perfezione le atmosfere misteriose del Giappone feudale e propone un'avventura intrisa di onore e sangue. Questi nuovi titoli dovrebbero essere disponibili senza costi aggiuntivi da martedì 6 giugno fino al 3 luglio. Ricordate quindi che avete ancora un po' di tempo per recuperare i giochi inclusi nell'offerta di maggio di PlayStation Plus Essential. Come vi sembra la proposta di Sony per il mese di giugno? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it sul sito, social e ovviamente qui su YouTube. Alla prossima!